Siamo qui alla scuola Mazzini con il presidente del quarto quartiere, Francesco Palano Quero. Cosa ne pensi di queste lezioni? Sono le 19, attendiamo l'affluenza, gli ultimi dati. Abbiamo avuto alcune segnalazioni relativamente all'abbattimento della barriera architettonica, per l'accesso ai seggi in alcune scuole anche del centro, come da Tomaseo. E anche qui, purtroppo questo nel 2017 non dovrebbe essere un problema per chi vuole esercitare un diritto ed esplodare un dovere. Per il resto l'affluenza è simile a quella di cinque anni fa, almeno questo è quello che sembra, dai parziali dati che abbiamo rilevato. Ovviamente fare una valutazione su quello che in questo momento sono i dati a disposizione è oggettivamente difficile.